Malati, ormai secchi, saranno abbattuti e rimpiazzati. Dieci lungo l'intero viale monumentale del cimitero, succede a Ruvo di Puglia. Alcuni sono segnati un po' dall'età e quindi certamente questo seccume che si vede è anche dovuto a questo motivo e anche in questo caso a funghi patogene tipici di queste specie, il cosiddetto cancro del cipresso che hanno portato alcune di queste specie a ridursi in queste condizioni. 400 i cipressi che insistono sul viale, da tempo era necessario un intervento di manutenzione. Il viale Ugo Foscolo è una parte molto identitaria della città, la gente certamente lo frequenta per andare a trovare i propri cari ma anche per fare delle lunghe passeggiate, per cui abbiamo deciso di cominciare con questo piano di ringiovanimento mantenendo la stessa quantità di servizi ecosistemici e abbiamo deciso di cominciare da qui proprio per l'importanza che questo viale ha per l'intera comunità. Non solo il cimitero, interventi di manutenzione del verde saranno estesi a tutta la città. Noi abbiamo realizzato un censimento del patrimonio arboreo della città di Lugo di Puglia che è molto importante e da questo abbiamo capito che c'è una gran parte di alberi che è arrivata a fine ciclo biologico e quindi in qualche modo su questo tema dobbiamo intervenire. Grazie. 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 Grazie.